avete proprio capito bene iniziamo questa nuova serie che durerà 20 minuti e devo mettere il timer dicevo durerà 20 minuti ad episodio e praticamente praticamente questa è una nuova serie di no di the sims un nuovo inizio una nuova avventura e abbiamo vipera malata che è una persona con aspirazioni no molto strane che è uno diciamo allora qua ho tutto quanto in inglese però praticamente è diciamo una cosa della malizia uno chef della malizia cioè lei molto maliziosa invece lui ha come ispirazione no di trovare l'anima gemella allora allora questi due se non avete capito diciamo si piacciono no una cosa no perché lei si chiama vipera malata comunque si chiama vipera malata perché è una strega no lui invece invece lui ci sta jeb harris però praticamente fra loro due le cose non funzioneranno mai e vedrete vedrete allora però entrambi per ora stanno funzionando devo dire però più in là più in là non funzioneranno entrambi comunque devono entrare o caspita devono entrare a far parte no devono trovare una nuova carriera una nuova carriera che possa dare loro diciamo i soldi e anche la l'aspirazione no tutto tutto quanto quello che vogliono loro poi è difficile lunisiani perché vipera malata dovete sapere che uno un pochino io l'ho pensata molto posso usare questa parola molto narcisista eh voi sapete chi è narciso no praticamente narciso è uno che si guardava che si specchiava nell'acqua che diceva oh quanto sono bello faceva tutto così no a mio dio gli altri sono tutti poveri fanno tutti schifo amo solo me stesso basta cioè narciso è così e non amava nessuno praticamente lei è uguale è uguale a narciso adesso avete pure imparato dai video di duni su una cosa nuova esisteva oddio adesso mi viene da starnutire non ho starnutito vabbè praticamente quindi lei secondo me a lei ci starebbe no un lavoro tipo questo no il social media oppure lo style influencer no tipo avete presente una di quei non sto dicendo che le influencer sono narcisiste però è tipo anche perché è un disturbo mentale quello però il disturbo narcisistico di personalità si chiama ale pure un'altra cosa mamma mia perfetto vabbè praticamente cos'è che fa questo style influencer lei siccome vuole diventare famosa secondo me ci fanno bene i social media vabbè facciamo questo e basta ok è diventata ufficialmente social media allora dice nuovo lavoro fatti un nuovo profilo social per lei per il lavoro praticamente si deve ok si è fatto il profilo social adesso facciamole aggiungere una nuova storia su sim su instagram no non sono tutte teso cioè come state adesso lei è tipo così che parla me state allora oggi siamo qui a milano perché cioè veramente dobbiamo fare il fatturato cioè perfetto cioè teso top adoro invece lui che è sto signore qua ehi me si permette di camminare nel mio palazzo ho sentito una cosa strana e tu sei scemo però scusami se se posso dirlo se non ti vesti vai subito a vestirti immediatamente brutto squinternato idilliaco non so cosa ho detto non so nemmeno cosa vabbè metti ma dov'è eccolo no 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 ho messo lei ma che che sono cretino allora devo mettere lui è dunis dunis è veloce svegliati poi vai pure a gioinare in una carriera svegliati però prima di domani mattina grazie ecco era ora era ora c'è nel senso non è che si poteva allora ti svegli per favore no perché se vogliamo continuare così allora pure lui deve avere un nuovo una nuova carriera no lui sarà un tech guru ha intrapreso questa nuova strada che ti porterà verso prendere molti soldi perché guadagnano 31 simolevano allora c'è voglio vedere allora tu quando è che inizi a lavorare tu inizi a lavorare domani lavora dalle 9 alle 3 di pomeriggio mentre tu ah no questa sei tu ok mentre tu invece dalle 10 ok perfetto ora sono le 1 e 50 pm allora ti puoi fare insomma una cosa a caso svegliati fuori che non sono qua a perdere tempo con te con le tue scempiaggini da scempiaggini lui invece praticamente dobbiamo andare a vedere insomma un pochino no come come procedono le cose cioè per esempio c'è questo microfono che mi oscura la vista molto brutta sinceramente molto molto brutta allora cos'è che sta dicendo adesso fa tipo tutto quanto mi taglio il dito ma no è impazzita impazzita e sei scema cioè questa qua si ammazza io ve lo dico vabbè allora lui jeb harris che è un po' più normale di vipera no già dal nome si capisce che vipera un po' fuori di testa dobbiamo andare a vedere un attimo col lavoro come sta messo lui deve giocare i videogiochi per il suo lavoro secondo me è un po' scemo se posso dire però vabbè facciamogli facciamolo giocare ai videogiochi che vi devo dire anzi non so c'è un computer in casa vediamo se c'è perché magari poi comunque dobbiamo anche ristrutturare la casa e magari faccio un video apposta dove iniziamo a ristrutturare la casa perché qua per esempio mancano un ufficio per esempio ah questa cosa non va bene allora io creerei ad entrambi due uffici nella modalità costruisci e iniziamo a costruire un pochino tipo magari senza coprirmi la bocca dunis perché sennò poi dopo la gente non sente più niente e beh pensa tu non l'avresti mai detto vero pensa tu che stregonerie moderne che sono questa allora praticamente questo è il studio di lui di jeb insomma come caspa si chiama non mi ricorderò mai e allora porca miseria sto facendo un casino più totale che computer riprendiamo a questo tizio qua e deve essere comunque un buon computer per me perché comunque no lui deve essere una persona no che ne sa di queste cose allora visto che lui va al lavoro io direi di prendergli un portatile magari non rosa prendiamo che ne dite magari blu rosso vediamo io direi che rosso ci sta però scusatemi ma porca miseria prima devo vendere questo perché fa schifo questo qua abbiate pazienza è questo il computer ce l'abbiamo ok allora in questo studio cose che possiamo aggiungerci possiamo aggiungerci per esempio una libreria che nei studi direi che ci sta assolutamente bene come perché non va ok va molto bene direi assolutamente questa che caspita no questa libreria era meglio scusate adesso metto questo è per forza no alte dai dai non va ma perché non mi va devo davvero fare quel comando che non mi ricorderò mai come si chiama più mai ma proprio no niente no 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 qua non si può fare non se può fa non se può fa assolutamente no dunizia come che sta cosa mi sto disperando aiuto mi sto disperando duniziani togli immediatamente la libreria prima che la distrugga in 30.000 pezzi cioè vi rendete conto che occupa 4 spazi cioè io sono completamente scioccato mettiamogli altre cose sul tavolo tipo questa è la sua nuova agendina che però scusatemi è anche questo deve essere tipo un rosso dai facciamo gli tipo azzurro ecco esatto questo è il private journal quello che gli serve a lui no per lavorare no la sua agendina dove si appunterà tutte le cose più magiche che scrive poi qua ci sono delle scatole che direi di mettere per decorare però siamo un po attenti è perché qua duniziani non so però non è che ci sono molte cose finché non capirò come fare allora scrivetemi sotto nei commenti i comandi no da fare come se mai ci stanno i comandi da fare c'è tipo perché io anche se li cerco non li trovo mai allora invece vipera vipera invece deve andare dall'altra parte della della casa allora ci mettiamo un tappeto perché fa schifo senza tappeto fa proprio schifo però a me piace molto questo però a doniziani dovete scrivermelo voi non vorrei che vi annoi cioè non vorrei annoiarvi con queste cose ditemi se volete vedere questa serie oppure no perché io sono felice di portarvela però dipende anche un po secondo me anche da come la porto vabbè vedrò comunque questa è la stanza degli ospiti vabbè comunque la casa la modificherò più in là adesso però giochiamo ci giochiamo nel senso anche finora ben giocato allora forza tu tu ho detto tu ho detto gioca video video game more choice aspetta dov'è no allora porca miseria è tutto teso infatti play game play sims forever perfetto questo qua devo dire che è il sim per sempre avete presente no invece tu 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 allora rimane tutto tu così che devi fare per il tuo social media allora si deve creare un profilo social quindi create social media profile allora university vampires ah ma lei è un vampiro scusatemi no perché sapete che non lo so computer security se allora vabbè vabbè lasciamo perdere si perché lei è pure materialista come è proprio narcisista ce l'aveva fatta proprio con il mente ci sta proprio comunque se vedete è fuori inverno e inverno e nevica cos'è è tutto quanto a disagio perché deve fa freddo e mettiti ma poi scusate non c'è il riscaldamento in sta casa cioè boh dovrebbe esserci eh dovrebbe assolutamente esserci mi sembra strano non ci siano allora praticamente per il suo lavoro dunisiani ah ecco social networking create ok perfetto questo ok perfetto eppure inspire per la cucina perfetto allora adesso si mette a fare il suo codore allora qua praticamente è l'inizio di una nuova avventura per lei no diventerà una social media tipo avete presente le influencer su instagram su instagram o tipo su tiktok porca miseria ma è bellissimo bellissimo no proprio una roba che è proprio mamma mia career no questo scusate l'ho già trovato career oh my god vabbè la smetto perché sennò poi dopo mi ammazzano gli americani come ha detto la mia amica qua update social media status assolutamente sì poi perché qua giornalmente dobbiamo essere tutti quanti attivi sui social assolutamente sì check total followers e poi tipo dobbiamo anche mettere tipo una storia su instagram che porca miseria deve essere perfetta bellissima che ci dà 300.000 follower in 3 secondi allora tu hai completato il tuo allora lui l'ha completato al 50% direi che ci sta comunque sono le 5 di pomeriggio buono allora io direi che per questa parte no della della loro vita li faccio concentrare molto sul lavoro sulla carriera e anche su certe cosette perché non scordatevi che fra di loro c'è qualche cosa no che no cioè si piacciono un pochino a vicenda capito se la intende insomma vivono nella stessa casa loro due diciamo che sono molto no molto eh avete capito no adesso non è che vi devo dire io le cose eh more choice allora a lei la mettiamo ad ammirare la nuova il nuovo possesso no perché lei è materialista quindi vedete dice eh ama le cose ama le cose ed è pure maliziosa adesso infatti andrà a rompere le le scatole e le scatole al povero al povero anzi prima di tutto gli fa tutta quanta la simpatica poi come la vera narcisista fa completamente il contrario cioè tipo ehm è tipo come che invita ad un lie about career shove snow ecco tipo questa start allora tipo secondo me gli da tipo la 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 cosa addosso no tipo tutta la 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 cosa adesso osserviamo la neve come che si chiama oddio adesso guardate ah 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 ambira ma che caspita ok vediamo se finiscono perché magari entro domani mattina tu sai scusami cosa vuoi no ah ok grazie beh mi ha fatto le congratulazioni la tizia basta parlare tu devi fare le tue cose brutte tizia devi fare così e poi devi fare eh gift special eh cosa cosa facciamo eh 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 ah che bello avete capito eh mamma mia chi ha detto cose orribili non ho capito cosa hai detto boh vabbè fate finta no eh tipo lui è tutto quanto triste però 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 poi dopo capito cioè poi dopo fanno eh fichi fichi no giustamente adesso guarda finisce l'episodio così perché così almeno lo metto all'inizio no e faccio tipo oh adesso vedete vedete eh no non vogliono più mi sa non vogliono più adesso voi fate cose fichi fichi perché io devo devo fare i money scherzo non lo faccio per quello ah lui non vuole proprio ma scusami eh a parte che vediamo eh eh vediamo se fanno vediamo ok perfetto adesso vogliono eh beh aiuto donisiani questo è un problema perché adesso youtube probabilmente mi oscurirà eh guarda no qua succede eh succedono cose succedono cose no eh quant'amore che c'è qua no assolutamente no porca miseria eh no 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 assolutamente velocizziamo il tempo eh guardate qua che robe che robe che robe eh hanno finito perfetto amore a non finire perfetto donisiani io direi che questo video possa finire qua se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete boff scrivete carta per non dire qualcos'altro perché non vorrei dire qualcos'altro eh insomma avete capito no scrivete carta se siete arrivati fino a questo punto del video così vi do il cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video ciao donisiani e sono molto contento per questa nuova serie ciao 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 ciao